le lacrime possono avere come causa una pressione oppure un'espansione fatto fendente ferita fragore in un cuore come i bombardamenti su chi è fatto fremito fascinazione frammento di una gioia che ti bombarda da dentro le lacrime possono essere responsabilità di criminali o desiderio di responsabilità per un mondo che ha fame di espansioni d'amore